per tutta roba non costa nulla l'importante è che la sia garantita ecco perché se il grassello siccome oggi come succede nel grassello ci mettono degli additivi per farlo seccare prima come spolverizzi se qui ci rimane delle buche ci va troppo e si schianta dopo ci va troppo grassello così che questo deve essere perfettamente quelle superficie tra pistoline in quegli affreschi devono essere senza pure questo lavoro deve essere bello piano no capito vedi qui bisogna perdere un po di tempo capito per fare questo lavoro capito perché praticamente io faccio questa cosa come se dovesse essere a fare un affresco grande perché almeno mi avviso a comportarmi in una certa maniera perché dice tanto che è piccolo non serve a nulla lascia stare no bisogna fare così come fa Gilles come fa? bisogna tutte le volte tutte le volte fare sempre le cose al meglio metti il caso da questo questo rosino mi viene qualcosa di bellino se l'ho fatto male se l'ho fatto male rimane fatto male invece se anche questa fischierata da questo ormai lo devi concludere entro stasera ma ora è piccolino c'è il tira veloce c'è gli L5 alle 6 e mezzo praticamente c'è un'ora e mezzo di tempo c'è un'ora e mezzo di tempo per disegnarsi eh però ora devo iniziare ora ti può vedere proprio il tiraggio perché può darsi anche che tiri poco e allora bisogna aspettare di più perché qui non si può fare come si vuole noi capito? qui bisogna aspettare lui capito? ecco questo ora va bene così ma tu ce l'hai la cosa per spolverare eccetera no si fa di getto ah di getto? è una posizione come le grani tanto sono queste sono di muri allora questo è il grassello puro grassello puro e quelle può andare per certo quei muri che sei visto mercoledì giovedì sono fatti tutti così capito? ecco questo garantita il limone non è che io vi raccolto una cosa che un'altra eh ecco praticamente facevano tutto questo lavoro qui c'abbiamo delle spatolone grosse logicamente se dobbiamo fare una parete intera gli attrezzi sono più grossi no? capito? se no i ragazzi vi direi ma come ma come allora io vi ho fatto un esempio praticamente aspetta eh se no si perde tempo se io ci butto l'acqua ora lo vedi lì sta lì l'acqua vedi guarda vedi la vedi contro luce l'acqua? si 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 se io ci metto il colore non mi tira non tira va bene? se io l'asciugo con il fono l'affresco perché sono quelli fatti nei muri sono quelli più importanti perché deve avere un tiraggio da dentro l'affresco deve avere un tiraggio da dentro se te tu l'asciughi con il fono praticamente c'ha un tiraggio dall'aria fuori dall'esterno e non ha dopo non c'ha l'ossidazione giusta che è quella che ti permette che i primi tredecimi di colore che tu metti sopra praticamente diventano come una un diamante praticamente capito? i decimi di colore praticamente si ossidano e diventano durissimi vedi ora comincia però comincia a tirare ora comincia a tirare ora si ora ancora sarà presto perché però tu vedrai quando comincia tu butti l'acqua e falla e l'acqua tu vedi la fa vum la sparisce quello nel momento si difinge poi dopo a un certo punto fra un'ora o due tu t'accorgi che non lo prende più il colore ma si secca da di fuori tu te ne accorgi benissimo e si secca da di fuori tu devi smettere perché se si secca da di fuori quel colore che tu metti non penetra di grassello e quando l'è secco tu fai così e spolvera e l'è un diamante ancora si muove il colore è un po' fresco però insomma uno può cominciare è un po' fresco quanto tempo c'hai da quando cominci? un'ora o due ore due ore massimo? si prima c'è un po' di delicatezza però e tu pigi i tapponi tu pigi i pennelli e i tapponi ecco l'olio ma che l'hai fatto? si qualcosa si la casa? no lo lascerà la mia figliola per esempio Dario l'ho visto le fatture si ma hai capito poi magari li rivende i neristi Dario ma perché di nuovo tu fai? non tu direi che rivende per buono intanto il temple è lo stesso come l'è bella quella portività di l'inferno ma è una strada gliel'ha fatto il pennello? come? queste cose questi pezzetti in via fatti dopo il pennello lì? sì? allora in qua bisogna lavorarci proprio chiaro che non sia chiaro come quello perché io ora quando ho scurito il foro mi diventa chiaro questo attenzione perché ogni colore ha la sua funzione in base dove ti lo collo hai visto? hai visto Gimba? che Gimba? ancora non è asciutto bene perché te tu potresti rimontare sopra lì e quello che se è fatto sotto non va via quando comincia a tirare per bene però nel medio insomma un po' anticipare no? ho visto? per esempio il verde è ancora unido? eh? l'ho già tirato il verde è tratato così è già assorbito o no? volta sì eh? mi piacerebbe anche a me poi il questo è il bianco di San Giovanni ora non le vedi no? queste tu le vedi quando si secca ah sì eh hai capito? è quel problema quindi devi calcolare anche l'effetto che verrà questo tu lo vedi sabato quando tu ritorni dopo ah sì? tu dirai eh guarda io lo ritocco io eh attento è l'unico bianco che si può usare se no riprucia riprucia che vuol dire? praticamente spolvera ripruciare vuol dire non non assorbe il colore capito? e praticamente vedo 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 ma è logico ma sì ma dai era normale ma ci sono una stessa e si scopiazzavano fra di sé e si scopiazzavano fra di sé anche allora che scherzo punto uno tu ripili e lo ricostruisci tutto eh capisco questo verrà eternizzato il colore lì l'è bello perché devi risentire un po' anche dell'altro hai capito? scuro l'altra volta no? sì tu dicesti mi sembra tanto scuro rispetto vero? sì 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 invece allora questo è dopo una settimana praticamente praticamente schiarisce il 30% questo l'hai fatto te salvo? no è un affresco questo è un affresco proprio un affresco classico quello che fa a questo muore come fanno